Siamo tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un altro nuovissimo video Oggi faremo lo slime con le mie due lol preferite Che ho scelto io perchè mi piacciono tantissimo Ci vogliono Due cucchiai di colla Poi tre cucchiai di schiuma da barba Un teppetto di acido borico mischiato con acqua Il colorante che preferite e il glitter che preferite Io in questo caso ho scelto il colorante blu e il glitter argentati Ok e allora possiamo iniziare a fare lo slime Dai andiamo a fare lo slime Allora ragazzi ci vogliono Come abbiamo detto due cucchiaini di colla vinilica Ok Ok Uno è andato E ci facciamo aiutare con il cucchiainino accanto che abbiamo Dovete prendere due cucchiaini Ovviamente uno piccolino e uno grande Mettiamo qua Ok Un altro cucchiaio Ok basta così Lo versiamo Ok Ora il colorante Mettiamo perché poi Poi altrimenti Poi mi spurco tutte le mani Quindi io non vorrei Ma esce il colorante Esci Ok e ora mescoliamo un poco per vedere il colore di come viene Con questo cucchiainino piccolo Bello il colore Questo è il colore che viene bellissimo Ok 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 Io avevo visto che abbiamo visto il colore che è meraviglioso Che è veramente bello Veramente Stupendo Ora mettiamo I cucchiai di scono da barba Un altro po' perché Ma come sputa Cioè sembra che sputa Ok mettiamo La seconda barba Ok ragazzi Mettiamo un altro Ho capito come metterlo Perché altrimenti Ok Ok E questo è il secondo Ok Poi mettiamo l'ultimo Ok E cominciamo a mescolare Ok Però viene tutto Perché la scuola da barba Io ho sbagliato A prenderla In blu Però per sbaglio Perché poi non c'è scritto Se è blu Se è rosa Se è bianca Ok Ora possiamo mettere Il L'acido borico Mischiato con l'acqua E dobbiamo prenderne Versiamo Chiudiamo Un attimo Perché pure Poi Cade tutto A terra E Questo Si forma lo slime Ecco Guarda quanto è grande Infatti doveva essere Proprio grande Grande Ecco Questo è lo slime Allora ragazzi Mettiamo un altro Tappeto di acido borico Perché E Aspetta Forse è un poco Troppo appiccicoso Però comunque è venuto lo slime C'è nel senso È slime Metto d'acqua Capone raga Mi ha messo troppo Ok lo mettiamo qua Chiudiamo Perché forse Praticamente Si è Impiccato Guardate qua Sì È praticamente Slime Ormai È tutto il fondo Questo Voglio mettere un altro Poco di colorante Magari Forse Guardate Guardate che barba Ancora non è perso Un po' che siamo Di tempo Di toccarlo Perché un po' che tina Ancora Mi è appiccicoso E ragazzi Ok Proviamo a mettere Un altro Cucchiaio Di schiuma Da barba Perché Formando Slime Si però ci vuole Un po' di Posiamo questo Mescoliamo con questo Perché comunque È formato Si però Un pochettino Non è Eh si è formato Però è un pochettino Ancora Motticicoso Allora ragazzi Ho mescolato Finché Non si facesse Questa Quello slime Questo così Tipo che ora Non è più Appiccicoso Proviamo a prendere Con le mani Ora mettiamo Un pochettino Di colorante Cioè Guardate che Meraviglia Cioè Bellissimo Veramente Bello Devo dirlo Bellissimo È anche tipo Molto Morbido Dentro Guardate Questo slime Ecco qua Guardate Che bello E ora Mettiamo un altro Poco di colorante Perché Prende uguale La schiuma Da barba Uguale Lentica Cioè Quindi Un pochettino Di bus è salvato Però Ne voglio mettere Ancora Sì Schiuma Ok Ne voglio mettere Un altro Poco Devo dire Che lo slime È bellissimo Questo slime Che ho creato Io Non è Usci Non è Esci Ok Ora Facciamo così Una cosa Se è troppo Che è successo Che è successo Bellissimo Stupendo Ragazzi Guardate Quello Che bello Allora Non so se Si ha visto Il colorante Però ti devi vedere Il colorante Prima o poi Vabbè Comunque si capisce Ora posso mettere Il Glitter Scusate Il Il Però Non ho scelto Argentati Ok Già Ne ho messi Troppi Forse Aiuto Questo qua Mettiamo qua Ok Ma dove sono i glitter Ma sono Fandate Aspettate Aspettate Che ora Troviamo i glitter Prima o poi Dovremo trovare Ah Qua Non ne vedo Alcuno Guardate Qua Sanno andate A finire Aspettate Mescoliamo Maglio Forse Mescoliamo Forse Si formano Cioè Si formano Sì Vabbè Vengono Ecco Qua Sanno andate Alte Sì Perché L'ho fatta Troppo forte Perché Questo slime Cioè È bellissimo Siccome da Barbara L'ha reso Molto Una cosa Ragazzi Facciamo una cosa Bellissimo Mettiamo un altro Bioticlitter Perché Non si vede Senza Cioè Raga Ha esploso Il mondo Forse Li prendo I glitter Sì Qua Qua L'abbiamo Tutti Conti Ok Si L'ho fatto Troppo forte Perché Volevo Potere Tavere Un glitter E si Sposito Non Vero Comunque Alcuni glitter Si vedono Prendiamo Ecco Qua Sì Tutti Nelle mani Glitter Perfettissimo Allora Guardate Che vi faccio Vedere Perfetto Guardate qua Guardate qua Che bello Ok Guardate Che bello Sembra Di punce Allo Stellato Cioè Nel senso Sembra Un mare Così Ora Vediamo Cosa fanno Lollina Che bello Slime Io Vado Nel tuo Spazio Che carino Io Abbiamo Il nostro Spazio Spazio Yeah Aia Bellissimo Allora Dovete fare Un pochettino Di silenzio Ok Va bene Ragazzi Se vi è piaciuto Il video Fatemi sempre Sapere Con Like Iscrivetevi al canale Per non perdermi I miei video E Se vi piace Questo slide Lasciate Tantissimi Commenti Ciao Ciao Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Video Ciao 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 Grazie a tutti.